Naturalmente quest'anno non ho la comunità, hanno cambiato la mente, il nome delle classi, la numerazione, quindi è la vecchia prima liceo. Diciamo che io ho preso l'occasione con la cerimonia dell'anno anno per sfatare alcuni dei miti, come prima diceva il nostro obiettivo e il sindaco, che circolano sul nostro liceo. Per esempio, uno dei miti è l'inutilità del latino e del greco, che vengono considerati come lingue morte. In realtà, io direi che questa visione non sia affatto corretta. Per esempio, appena abbiamo cominciato lo studio della letteratura latina, abbiamo detto che c'era una tarda di inizio, ma non c'era una tarda come finita, perché se la nostra vita lingua latina si è avuta nella nostra lingua italiana. Altri miti sono, per esempio, lo studio della matica, delle scienze che viene, secondo alcuni, diminuito nella nostra scuola.